Palazzo Santa Lucia ha preso atto della sentenza. Il presidente della giunta Vincenzo De Luca ha incassato la sconfitta firmando la nuova ordinanza. Il Tar Campania riapre le scuole. Da giovedì ritorno in presenza per gli alunni delle quarte e quinte elementari. Dalla settimana prossima toccherà anche agli alunni delle medie. Per le superiori invece si valuterà dopo l'ulteriore verifica dei dati sanitari dell'unità di crisi. Per il coordinamento scuole aperte e pillole di ottimismo che hanno firmato il ricorso, un grande risultato. Un'esplosione di gioia nel senso che era giusto che i nostri figli rientrassero in aula. Io sono fortunata perché mio figlio è all'infanzia quindi sono già diversi giorni insomma che frequenta la scuola in presenza ma avevo amiche con ragazzini insomma di quarta, quinta elementare alle scuole medie veramente esausti. Quindi diciamo che la vittoria la dedico principalmente insomma a questi bambini, a questi figli di amiche e a tutti i bimbi campani finalmente la campagna sia adeguata al resto d'Italia. Nel dispositivo firmato dal giudice Maria Abruzzese si contestano le ordinanze regionali ritenute lesive del diritto all'istruzione degli studenti. Su Facebook l'assessore regionale Lucia Fortini ha fatto sapere che Palazzo Santa Lucia rispetta la sentenza e prepara la riapertura. Sul fronte sanitario invece resta stabile a 6% l'indice di positività in Campania. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono 968 i nuovi positivi mentre sfiora a quota 2.000 il numero di guariti. Nel report giornaliero si contano però altri 42 decessi. Intanto sono state distribuite le 18.000 dosi arrivate a Capodichino. La campagna vaccinale in Campania può riprendere.